C'è Panettoni, poi l'attacco di Gardini, palla spinta, difesa da Riparbelli, contraattacco di Botarelli, che chiude, 25-22 la contesa e allora il Soverato chiude 3-1, si aggiudica l'intera posta in palio, torna alla vittoria dopo lo stop di Cutrofiano. Chiara Mazzon, una delle principali protagoniste di questa vittoria del Valle Soverato con il Club Italia 3-1, una partita dai due volti, i primi due set possiamo dire dominati, terzo e quarto c'è stata un po' di sofferenza, ma alla fine siete state brave a non mollare in un momento anche particolare del quarto set. Sì, è stata una partita sofferta, ma sono molto contenta della mia squadra, soprattutto per come ci stiamo allenando, che non è assolutamente una condizione facile, in quanto ci stiamo allenando in 10. Niente, sono soddisfatta del lavoro svolto finora e che dire, la testa alla prossima. Diciamo che c'è stata anche una bella prova di carattere per riscattare anche lo stop della sconfitta con lo stop di Cutrofiano nel turno infrasettimanale, quindi anche una prova dal punto di vista mentale di carattere della squadra importante, indice di un ulteriore passo di crescita di queste ragazze. Sì, abbiamo sofferto contro Cutrofiano, mi pare che il campo stia parlando, ci siamo impegnate, in soli pochi giorni siamo riuscite a tornare concentrate, dopo comunque una trasferta molto lunga. Abbiamo lavorato e penso che i risultati si siano visti. Con Diego Boschini, vice allenatore del Valle Soverato, commentiamo questa vittoria per 3-1 col Club Italia, una partita dominata nei primi due set, dove avete sempre condotto e avete avuto l'inerzia del match in mano, sofferta nella seconda metà con il terzo set perso e il quarto vinto al photo finish, però un Soverato che ha dato una prova di carattere riscattando il KO infrasettimanale subito a Cutrofiano. Sì, diciamo che loro all'inizio non si aspettavano il nostro gioco, molto probabilmente, quindi chiaramente c'è stato due set in cui loro si sono adattate, poi loro sono cresciute, noi siamo calate fisicamente, ma questo credo che sia nell'ordine normale delle cose, dato la situazione attuale in cui siamo, nel senso che veniamo da tre partite, una di fila all'altra, in cui non c'è stato tempo per poter recuperare, con la situazione in cui siamo in 10 è complicata, molto complicata, quindi su questo punto di vista devo dire solo bravo, brave alle nostre ragazze, brave, veramente brave, perché non era facile, non era per niente facile, non per niente scontato e soprattutto noi abbiamo vissuto questa settimana soprattutto con tanta tensione, tante difficoltà, tante tantissime difficoltà e le ragazze hanno dimostrato per l'ennesima volta di riuscire a tirarsi fuori da una situazione veramente complicata. Il mio applauso, ma credo che poi vaga anche per un po' tutto lo staff, sia per queste ragazze qua che oggi non hanno mollato un solo centimetro di campo, uno che uno. Con Coach Bellano commentiamo questa sconfitta per 3-1 del Club Italia qui al Palascoppa di Soverato, possiamo dire una partita dai due volti, primi due parziali, un Club Italia più falloso, più contratto, terzo e quarto sette invece più determinato, una squadra più efficace, più convinta. Ma sì, abbiamo fatto qualcosa di meglio nel terzo e nel quarto, però comunque è stata una brutta partita da parte nostra e credo anche in generale, sicuramente non bella. Abbiamo fatto un sacco di confusione, anche in situazioni tatticamente semplici, però abbiamo approcciato male la gara secondo me e l'abbiamo finita peggio, quindi non sono decisamente soddisfatto. Il progetto Club Italia naturalmente va avanti, squadra giovanissima che ha ottenuto in questo avvio di stagione dei risultati altalenanti, ma che allo stesso tempo ha dimostrato di avere le qualità per competere con tutti. Ovviamente c'è da trovare una certa continuità di gioco e di risultati, ma l'obiettivo è proprio quello, credo. Sì, sì, ma quello che mi fa arrabbiare non è tanto aver perso, perché quello per noi è relativo, è importante ma relativo, è il come, il fatto che su tante situazioni siamo stati indecisi sulle cose da fare, invece noi dobbiamo imparare a scegliere e scegliendo poi facciamo anche degli errori, però dobbiamo imparare a scegliere, essere un po' più aggressivi nell'interpretazione di tutti i fondamentali, dalla difesa di stasera al muro, all'attacco. Per cui il rammarico è quello di aver perso, secondo me, un'occasione in una situazione anche ambientale non facile, che sono quelle per cui queste ragazze fanno il campionato di A2, per essere messe in difficoltà e poi dopo risolvere le difficoltà. Invece oggi davanti all'ostacolo, a differenza di quello che era successo a Cutrofiano, non ci siamo fatti trovare pronte, abbiamo interpretato male la gara. Infine da tecnico esperto qual è, le chiedo anche un giudizio su questo volle soverato, che era reduce tra l'altro dalla sconfitta nel turno infrasettimanale a Cutrofiano, una squadra che ha delle buone individualità ma anche che è un gruppo che sicuramente può crescere ancora. Sì, sì, ma secondo me un po' le scorie della sconfitta di giovedì probabilmente si sono sentite perché anche loro in alcuni momenti hanno pasticciato parecchio, però le individualità ci sono e la squadra è molto buona, per cui sotto questo punto di vista credo che loro saranno in lizza per i play-off e poi dopo per giocare le prime posizioni fino alla fine.